Buonasera, un'altra sera con voi, aspettando il nostro amico Matteo Branciamore, nostro per chi ha cuori colori rosso nero, nostro anche per chi ha seguito per tante puntate all'epoca i Cesaroni, Matteo è un attore e un artista, vorrei dire, molto poliedrico, molto duttile, che fa tante altre cose, canta anche, legge, mi ha fatto un reading, ciao Giovanni Bruno, ciao Veronica Quaranta, ciao Falchi Mattia e i Milan Club Gravina di Puglia che amo, Puglia, Milan Club, Gravina, sono cose che mi sono molto care, come Vanessa Gravina. Stavo dicendo di Matteo Branciamore che oltre ad essere un apprezzatissimo attore dei Cesaroni Leonardo Tega, mi devi far sapere se l'audio è perfetto, se il video è perfetto, se il collegamento è perfetto, Nico c'è, dov'è Matteo Branciamore? Dov'è Matteo? Matteo Branciamore, eccolo qua, trasmetti in diretta con Matteo Branciamore. Non abbia atta, è romano, i romani se sa, hanno i tempi loro, hanno modo di collegarsi ego karma, ma quando arriva il collegamento è un collegamento eccezionale. Sotto c'è sempre la scritta in attesa di Matteo Branciamore, stiamo aspettando, a ridargli Matteo Branciamore, ciao Matteo, ci sei? Ando stai Matteo, tac, aggiungi. Allora c'hanno i tempi romani, io lo so perché ho papà, avevo papà che era romano, ho i suoi fratelli, Rolando e Rita che sono romani e stanno là. Io continuo a vedere che compare Matteo Branciamore, ma non sei collega, non so che sta a fare. Matteo, svegliete un po', spettatore, aggiungi, official, FC, Matteo Branciamore in diretta, ce dovremmo fare, non so se sto cliccando giusto, non vorrei che fosse il suo fan club. Adesso aspettiamo, andiamo avanti ad aspettare Matteo Branciamore. a Matteo, dove cacchio stai? Branciagramma, io non vedo, come si dice a Roma, poi devo alzarmi, vediamo gli occhiali, Matteo Branciamore, FC, eccolo qua, ha inviato una richiesta, trasmette in diretta, in attesa di Matteo Branciamore e già se ne sono andati quattro minuti, meno che non ci ha rifiutato, ma allora non è lui, io non so che fa. Adesso dovrò mettere giù e richiamare, perché Matteo è Branciagramma. Ok. Lo so che è Branciagramma, però non lo vedo, Branciagramma, cacchio sta Branciagramma, Branciagramma, ecco qua, se lo fa casino io o lui, è partito prima il fan club di lui. Ah, io. Sei un disastro. No, non sono un disastro. Sei un disastro. Cioè io stavo là da un minuto a schiacciare. A parte che non è che fai fatica, però sei collegato prima al tuo fan club. Allora io cercavo loro e loro rifiutavano. Dico, ma che fai provo? Sono educati. Hai fatto il pizzetto da D'Artagnan? Eh sì, è una cosa di casa. E com'è? È una cosa di casa, così. No, ho fatto un video con la cosa da D'Artagnan e l'ho lasciato. Ma come hai fatto da solo, scusa? È il pizzetto? No, il pizzetto lo so, ma vedo anche i capelli ordinati. Sposta un po' l'arbitro. Che ordinati? Ma che no? Vedi che c'ho la... L'ho schiacciati perché c'ho il capello... Anch'io l'ho schiacciati. Il famoso capello a fungo. Anch'io l'ho schiacciati. Sei riuscito a farmi fare una diretta? Io che sono contrario a queste cose... Ah sì? Nuove tecnologie... Sì, un po' sì. Sto parlare così... Allora sei il quarto, lo sai? Io ho avuto il primi legio... Ha fatto una diretta in due mesi Marco Borriello. Ha fatto una diretta in due mesi Diego Patantuono. Ha fatto una diretta in due mesi Vanessa Gravina. E mo' sta a fare una diretta a Matteo Franciamore. Sì, sì, sì. Non sono molto favorevole. Ma guarda che... No, ma favorevole adesso mi spieghi perché tecnologico non lo so neanche io, come hai potuto vedere dal motocollegamento. Perché non sei favorevole? Non ti diverti? Ma non so, non so io sta cosa... Ma sono un po' contrario... ultimamente sono un po' contrario ai social. C'è questa cosa dei social che c'è il senso che ci hanno un po' diviso. Ma questo è un discorso pesante, palloso, non voglio parlare di questa cosa. Ma due minuti mica per... No, 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 non mi piace. Cioè io riscopro più il contatto. Sì, questo d'accordo. Allora io ti dico che lo uso molto, li uso molto professionalmente per lavoro. Posto le mie cose, i miei articoli e devo dirti che ho scoperto grazie a un amico, un informatico straordinario, che ha ragione. Me lo porto quando vado a presentare i libri nelle scuole. Perché lui sostiene che nei social c'è una vita reale, non c'è una vita virtuale. E la selezione la fa la competenza, la fa la reputazione. Sì, quello è vero. Ecco, per cui ti dico la verità, io non inseguo follower, non ho fatto questa cosa per i follower. L'ho fatta per Leonardo Tega, che è un milanista sfegatato, è un mio amico da dieci anni, mi ha fatto du marroni così. E tu sei simpatica, tu conosci gente, fai compagnia alle persone. Io non l'avrei fatta mai. E adesso, quando finisce questo periodo, ne farò una ogni tanto. Però ti devo dire la verità, poi entriamo nel vivo della vicenda, che la gente ha apprezzato il tono. Qualcuno ogni tanto scrive, ci sembra di essere lì sul divano con voi, in casa con voi. Perché le chiacchierate con tutti sono state proprio, non sono state le interviste, sono state chiacchierate. Adesso io racconto la prima parte e tu la concludi. Perché nove anni fa, ieri, noi abbiamo trascorso una serata insieme. Perché c'era stato Milan-Cagliari, poi partiamo dal finale. Se ti ricordi pure la partita, qual'era? Sì, se la finì Beatrice è mia sorella, ti seguo nei Cesaroni, in televisione ti saluta. Allora, c'è la partita. E dopo la partita, che celebra lo scudetto, Massimo Ambrosini aveva preso un locale di Milano, il Giascavalli, solo per lui la squadra, gli amici, i fisioterapisti, i magazzini, proprio una cosa molto informale. Tutto il locale. Allora, quando siamo entrati, io e mia sorella Beatrice, lei ha dato 20 euro alla guardia che c'era fuori, gli ha dato le chiavi della mia macchina e ha detto, per favore, perché lei doveva rientrare in Liguria poi a un certo punto della serata, per favore, quando va via, gliela fa guidare solo se è in buone condizioni. Se mio fratello non sta in piedi, lo fa guidare la macchina a qualcun altro. Parte la serata, festa, torta. Io mi metto davanti per il taglio della torta, una gioia fantastica, perché tutta la squadra mi ha detto, vieni qua tu a tagliare la torta. Io mi metto in posa, col coltello, la torta, tutta la squadra dietro, al momento del taglio mi spingono tutti nella torta, quindi fracico. Andiamo avanti a festeggiare e arriva il momento, mia sorella va via, arriva il momento di trasferirci in un altro locale. E Matteo Branciamore, che era presente, che fa? Purtroppo ero in macchina con te. No, ma non solo. Quando usciamo, Lomino ci ha guardato e ha detto, guardando te, guida lei. Sì, e siamo arrivati all'estrata del... Stavo io imbarazzo. C'è tipo la macchina nella... Nel privé. Nel privé, da dietro. Da dietro. Quando si è aperto il portellone del privé, noi avevamo i fari ancora della macchina acceso e si è illuminato Ibrahimovic. Ti ricordi? Abbiamo visto Ibrahimovic stagliassi come un dio, mi ha detto, un po' chi c'è? Sì, era un'esperienza mistica quasi, Serafini. Perché? No, io pensavo che tu stessi raccontando come ci siamo conosciuti e te. Sì, adesso... Sì, ho voluto partire dal finale. Facciamo poi i feedback. Perché avevo scoperto esattamente, ti dico, sei anni prima, perché era l'anno che meglio se ti avevi i diritti in tv, del diritti in chiaro del calcio. Sei anni prima siamo a una cena. Dunque, io anche qui racconto la prima parte. La prima parte è che mi danno da organizzare questa trasmissione domenicale, dalle 3 alle 5, si chiamava Studio Stadio, se non mi sbaglio. Il mercoledì. Allora, io, ma sì, Ettore Rugnoli, il mio direttore, devi mettere in piedi la trasmissione. Allora, la conduce Emino Taveri, prendo Laura Ghislandi, che è una mia amica che lavora ancora a Radio 24, poi Maurizio Mosca, Giacomo Valenti, Ugo Conti, tutti i miei amici ho buttato dentro. E c'era un giocatore del Milan che doveva essere Calazze, che era squalificato. Il sabato pomeriggio, la trasmissione alla domenica, Calazze mi telefono e dice guarda che il mister Ancianotti vuole che la squadra vada tutta con lui, rimangono qui solo gli infortunati. E quindi non avevo più l'ospite. Tra gli infortunati, tanto per cambiare, c'era Massimo Ambrosini, che il sabato sera aveva organizzato una cena in un locale di Milano. Vai avanti tu. Io quel pomeriggio ero a Milano perché dovevamo fare la promozione dei Cesaroni della prima stagione e andammo all'Hollywood per fare un incontro con i giovani fan e con Obirichi, il nostro amico in comune, no? Che è uno dei gestori dell'Hollywood. È uno dei più grandi PR del mondo. Esatto, esatto. Poi addirittura uno dei più grandi PR del mondo. E mi ricordo che poi ci siamo fermati a parlare dopo l'evento del Più del Meno, ho avuto fuori che io sono un romano milanista, lui grande tifoso del Milan, parliamo di calcio del Più del Meno, mi fa guarda questa sera vado a cena con Ambrosini, se vuoi venire. Io gli dico, ah, Ambrosini quel, Ambrosini? Sì, certo. E dico, certo che vengo, ma anche se non devi anche chiedere, così. E quindi mi ritrovo a questa cena anche un po' imbarazzato comunque, quasi da imbucato, no? Quanti anni avevi tu 15 anni fa? Beh, era il 2006, quindi io avevo 24 anni, 25 anni. Pischello proprio. Pischello proprio. E facevo il sedicenne. È certo, è giusto, è vero, sì. Quindi tutto sbarbato facevo il sedicenne, quindi questa cosa pure è da dire, no? Nel senso che ero del 81. E quindi finisco a questa cena e c'eri anche tu a questa cena. Sì. Io mi ricordavo di te perché compravo da ragazzino per colpa di mio padre i Forza Milan. Certo. Quindi c'era tutta questa storia. Insomma, alla fine facciamo questa cena e ci divertiamo, scherziamo, ridiamo, parliamo di tutto, di calcio. E poi tu mi ricordo che fai questa cosa e dici questa... Senti, ma... Sì, perché nel frattempo, io confesso, non guardavo i Cesaroni e a un certo punto Ricchi mi dice, lui ti vorrebbe conoscere perché è un milanista, vede il Milan Channel, ti conosce volentieri. E lui mi guarda e dice, ma non sai chi è? Dico, no. Ma come, cazzo, Matteo Branciamore, Cesaroni? Dico, non lo so. Mi presenta un grande milanista e dice, poi ho visto che uscendo facevi degli autografi, facevi delle foto e ho cominciato a grattarmi il mento e ho detto, questo qua domani me lo porto in trasmissione. Mi ha incastrato così, mi ha portato in trasmissione, io dovevo tornare da Roma e invece sono tornato forci in trasmissione. Il pomeriggio, sì. Tra l'altro la domenica mattina io mi presento in riunione di dico, ragazzi, il Calazzo non c'è, però ho reclutato Matteo Branciamore. Il mio direttore Ettore Rognoni mi guarda severo, occupo, e chi è? Ma per fortuna il vice direttore Nicola Calatopolo dice, come chi è? L'idolo delle mie figlie, Cesaroni? Allora bene, passa questo primo colpo, ma l'apoteosi è stata quando siamo arrivati in studio, perché Ettore Rognoni era ancora un po' dubbioso. Quando siamo entrati in studio con te lo studio, esplodo, tutti in piedi, Matteo. Allora io l'ho guardato come Mr. B e gli ho detto, ma che ti pensavi? Ho fatto il colpaccio. Senti, che hai fatto questa quarantena? Come ti sei organizzato? Ma questa quarantena in realtà dà degli alti e bassi incredibili, nel senso che la cosa era tranquillo, positivo, diceva, vabbè dai, leggo un libro, guardo una serie, vedo un film, penso, ragiono, eccetera, ma è un po' un up and down, penso che non sia solo per me o per te, penso un po' per tutti, perché è una cosa talmente nuova quella che stiamo vivendo, che non... Inedita. Sì, proprio inedita, diciamo, quindi credo che tutti rispondano così a questa domanda. Ma tu sei stato creativo, cioè hai avuto voglia di scrivere delle cose. Dei momenti... Avevo visto un tuo video all'inizio. Sì, un paio di video, sì. Sali, è strano, ci sono delle giornate appunto che parti, che hai delle idee, che vuoi provare a metterle in piedi in un futuro prossimo, no? Continuo a leggere, continuo a leggere di gente che dice, ma perché non canti più, perché non canti più, perché non canti più? Eh, perché quella mia parentesi legata è proprio Cesaroni, sì. Ma tu canti, ma non hai mai più cantato nella tua vita? Io non sapevo questa cosa. È legata molto alla serie, questa è un grande falso storico che ci ha sempre stato dai tempi dei Cesaroni, nel senso che io nasco come attore e per fare la serie sono dovuto diventare un cantante, fondamentalmente. Quindi sono sempre rimasto legato a questo discorso di Cesaroni, però una volta fida quella parentesi non mi sono più direttato a una carriera parallela. Cioè è già difficile fare una cosa, più... Insomma, quindi è sempre stato un po'... Però siccome nella serie il personaggio aveva molto successo come cantante, allora Giacke sprona ancora giustamente a cantare. E poi c'è quel bacio a Martina... Tu là poi ci sguazzi perché ti racconti tuoi le... Perché sì, perché andiamo... Mi hanno messo in mezzo per anni questa storia. No, perché andiamo a vedere, credo che fosse una presentazione privata e proiettano la puntata dei Cesaroni, era forse l'inizio della seconda serie, se non mi ricordo. E c'erano due o tre della squadra, mi ricordo di Matteo Albertini perché in queste cose lui sguazzava. Allora inizia e tu corteggiavi per tutta la puntata in maniera molto invadente Martina Colombari. E allora ogni volta che c'era un tuo amicamento, siccome c'erano Biglia e Martina anche lì in sala, si sentivano in giocattiva che si schiarivano quando l'accarezzavano. A un certo punto c'è un bacio coinvolgente e Demetrio grida, beh questa però non ce l'avevi detta. Sì, questa cosa è andata avanti per anni. Anche con Billy quando l'ho incontrato un paio di... Ma tu gli dici ma è finzione, è scena. Sì, 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 sì. Anche una volta in puntata Ciccio Valente mi metto in mezzo con dei video. C'è, beh è chiaro. E c'è tutto un montaggio di tutte le scene, una cosa è bella. Non con linguato, un besito come direbbe il barbiero di Rio, no? Sì, sì. Un besito con linguato. Sì. E anche, ho letto anche che si sono divertiti a vedere i primi due video, uno mi aveva fatto molto ridere anche a me, tipo Shining. Sì, sì. Sì, abbiamo pensato con Giorgio Crocenanni che è un po' il mio partner in crime di queste cose, queste cose un po' folli che noi abbiamo in mente, di fare durante questa quarantena un po' di video dove mischiavamo i film famosi come se ci fosse stata la quarantena durante questo video. Quindi cambiava proprio la sceneggiatura prendendo spunto da quelle scene madri di alcuni film. Quindi ecco The Ring e la telefonata invece di essere come nel film, è Conte che mi chiama e mi dice altri 15 giorni di quarantena. Se vedi un video. Non te muove! Esatto, se vedi, se apri questo video dove parla Conte, tu ti fai altri 15 giorni di quarantena. Quindi, insomma, devi trovare un po' un Shining, c'era questa cosa del video. Meraviglioso! Dove si può trovare ancora il video? E questi sui nostri canali social. Su Facebook si possono trovare... Quale? Sui nostri canali social, su Facebook, anche su quello di Giorgio Crocenanni si trovano ancora. Volevamo fare anche un altro, ma poi ci siamo un po' arenati per questi up and down appunto creativi che ci stanno. Quindi è un po' così. Lo sai com'è questo periodo? Abbiamo già parlato anche prima. Sì, ne abbiamo parlato. Io ho una... Certo che ho avuto dei down. Ho avuto dei down. Ma è normale. Sì, sì. Poi anche tu vivi solo, no? No, io in realtà no. Non vivo solo. Cosa non so? Cosa fai? La faccia da scoop? Serafino. No, ma che bello, ma che bello, no figurati. Mi ho detto c'è qualcosa che non so, quindi. Beh, tu perché ci siamo visti poco ultimamente. Sì, noi ci siamo visti tutte le volte a ottobre, mi pare. Sì. Ottobre. Bene, va bene. Tu, allora, a maggior ragione, io sto da solo. E quindi, caro mio, i down, soprattutto se il momento peggiore, che invece per me è sempre stato uno dei momenti più belli della giornata, è quando vado a dormire. Perché io per tutta la vita, ho una vita intensa, divertente, spesso sono andato a dormire all'alba nella mia vita, tantissimo, ed è un bel momento, perché crolli e finalmente è finita. Invece adesso che ritardo sempre, guardi un film, guardi questo, poi vai a Gleu, vedi ancora due cose sul cellulare, spegni, ti viene un po' di ansia. C'è un silenzio a Milano. Guarda, hanno fatto vedere quelle scene sminavigli dell'altro giorno, incoscienti. Però io ti devo dire che, onestamente, c'è silenzio in generale. Io vivo in una piazza trafficata. Come è a Roma? Tu non sei più uscito proprio con me. Guarda, sono uscito oggi, ieri e l'altro ieri, perché, insomma, con il fatto che è un po' questo post-lockdown, tra virgolette, però qua in realtà non c'era tanta gente fino a un paio di giorni fa. C'è rispettata abbastanza questa... Io ti dico, ecco, per quel poco che giro qua intorno, ma è una piazza grandissima, con delle arterie importanti, in un momento normale di giorno, io devo tenere sempre le finestre chiude, perché c'è casino. Oggi sto tutto il giorno con le finestre aperte e è decisamente una cosa differente rispetto all'estero. Senti un po', quando si aprirà quella porta e che fai? Questa è una bella domanda. Guarda, oggi sono passato a prendermi, dopo due mesi, un caffè al bar. Mamma, che bello, ieri mattina. Hai visto, però tipo, se io ero tanto contento di andare a prendermi il caffè al bar, però poi hai visto com'è, no? Come situazioni. Comunque devi entrare... Sì, un bicchierino di carta, sì, lo so. Un bicchierino di carta, in realtà te lo prendi e te lo porti fuori. Te lo porti fuori, certo. E quindi, non lo so, mi sono un po' adombrato. Cioè, ho detto, cavolo, è veramente assurdo tutto ciò, nel senso che il bar, che poi per Caetà non è una cosa primaria per noi, cioè, parliamo così chiaro. Ma no, per carità, io l'ho scoperto per caso. Mi tocca quasi sempre in queste dirette. Prima o poi va a finire che... Devo dire che fumo. Però da qualche mese fumo la sigaretta elettrica. C'è un tabaccaio molto grande vicino. Ieri mattina, quando sono andato, ho visto che c'era il bancone anche del bar, funzionante per quel poco che fumo. E gli ho detto, ma si può bere un caffè? Sì, a me non interessa. Io posso fare, per esempio, dei voli intercontinentali. sono andato in Argentina l'anno scorso due volte senza fumare un giorno intero, perché dura un giorno, ovviamente. Ma il caffè, perché io ho la macchinetta, ma non è quella del bar. E però a quel momento lì, io capisco cosa vuoi dire. Mi ha dato il fazzolettino di carta, il cucchiaino di carta, il bicchierino di carta. Sono andato fuori, solo il sapore del caffè valeva la sofferenza. Sì, sì, però è la strana come si traspione. Però sai, insomma, secondo me bisogna viverla come un'esperienza, come dicevano i nostri nonni, senza pesare quello che dicevano. Avreste bisogno di una guerra, non lo desideravano realmente, lo sappiamo tutti. Però di cominciare a pesare quello che serve, quello che è utile, quello che non lo è, quello di cui possiamo fare a meno, è un passaggio per le menti pensanti, perché se poi vedi quello che succede sui navidi ti cadono un po' le palle. Sì, sì, ho visto. Qualche cosa resta di positivo, secondo me. Intanto abbiamo un bel progetto io e te, appena ho finito il mio libro, vengo a Roma tutte le settimane. Te lo sto dicendo da due anni che te lo dico e adesso lo faccio, perché è geniale e la porteremo. Quindi devi essere bello carico, perché ti senti un po' meditabundo. Siccome ti stanno scrivendo un sacco di ragazze, devi trasmettere loro un po' di carica. È normale che questo periodo però ti fa meditare. Anzi, è un bene, perché fermandosi il mondo tu hai la possibilità di pensare, di ragionare veramente, come dici te, sulle priorità, su quello che conta davvero. E la mia paura, in parte, è quella che nella storia abbiamo, però la storia ci ha insegnato che purtroppo poi dopo un po' torniamo come prima, nel senso che c'è un modo di essere che poi improvvisamente c'è, poi alla lunga ti scordi di quel, vogliamo sempre quello che non abbiamo. Ci abbiamo delle cose che abbiamo sempre fatto noi esseri umani, se vai a ragionare. e non è una cosa, lo so che può essere una negativa, però è un dato di fatto. Non lo so, io, sai, poi ognuno è fatto a modo suo, io sono uno, ci conosciamo molto bene e tu pure, siamo due persone alle quali qualche cosa di questo resta addosso. Io però parlavo in generale, nel senso proprio parlando di come siamo fatti noi esseri umani, poi è difficile fare tutto nel buon fascio, ovviamente, però in generale poi c'è chi invece riesce a metabolizzare di più qualcosa e farne tesoro e chi invece magari lo fa sul momento e poi lo abbandona in un secondo momento. Perché Millie ti chiede quanto ti manca Taranto? Perché ho girato un film a Taranto, che tra l'altro lo stanno mandando adesso su Amazon Prime, anche senza i te, con Nicolás Vaporitis e Miriam Catania. Ho letto ieri un po' di cose tue per essere preparato, infatti ho scritto d'utile, lo sapevo, ma volevo leggere qualche titolo. Il teatro non ti piace tanto? No, 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 come no? Il problema del teatro è solo il fatto, ai tempi, ad incastrare sempre le… cioè mi scapitava sempre che quando dicevo un sì a qualcuno otto mesi prima, magari poi capitava… Sai come funziona il nostro ambiente? Che tu stai in un'unica cosa che devi fare è che si accumula le altre due, quindi è sempre così. Ma in testa le tue preferenze che cosa c'è? Tu sei anche autore, cioè tu sei un pensante, tu scrivi, è arrivato il momento secondo me che tu metti in piedi qualcosa di tuo, per questo io voglio aiutarti perché l'idea è fantastica, non diremo niente, ma l'idea è eccezionale, e tu sai scrivere, sai pensare, insomma sai mettere in piedi qualcosa. Guarda, io sono molto fiero di un corto che a breve poi metterò anche online, che ho girato l'altro anno ormai, un anno e mezzo fa quasi, che è mai 2018, che si chiama Sveglia con Antonio Catania, Maurizio Mattioli, Moruggero, Andrea Venditti, insomma un corto sul coma ma in chiave comica. Ok. Ho detto così tutte le persone hanno sentito, oddio. Sì, sì, certo. E quello è un mio piccolo pargolo, un mio piccolo film dove sono molto grato di averlo fatto a me stesso. Ed esce? Esce quando? E no, tra un po' lo metteremo credo online, perché finora ha fatto un po' di festival, è un short short movie perché è di quattro minuti e mezzo, quindi non ho mai potuto fare una vera trafila dei festival, però mi ha tolto un po' di soddisfazioni. E nell'ultimo anno e mezzo c'è stato un po' questa cosa che mi stai dicendo te mi è stata ripetuta più volte da tante persone. Ma la mia era una domanda in realtà, cioè qual è la cosa che... Sì, cioè... No, no, perché in realtà il bisogno di raccontare qualcosa inizia a venire fuori sempre di più. Ecco, infatti, questo lo percepisco. Il bisogno di voler raccontare... Il problema è che comunque, sai, non è facile fare un salto... Quando fai l'attore per tanti anni e sei attore, già fai un po', no? Poi in caso mio, molti credono anche musicista, poi, insomma, è difficile poi dire ok, adesso faccio anche il regista, o ci provo, o scrivo anche il regista. Non è facile. No. Bisogna fare una scelta, prendere una strada che non esclude necessariamente le altre. Esatto, esatto. Però c'è questo bisogno. Io inizio a averci da un po' di tempo a questa parte, di fare delle cose mie dove magari ho la mia idea in testa e la porto a termine. Perché, sai, l'attore è un lavoro stupendo, fantastico, però in realtà, quando sei poi in realtà, puoi essere creativo, ma in maniera limitante. Perché comunque sei sempre al servizio di qualcun altro. Sì, sì, certo. Quindi c'è qualcuno, uno sceneggiatore che ha scritto qualcosa, un regista che la mette in piedi, e l'attore deve essere giostrato in maniera che possa fare il suo lavoro. Però è un po' un minimo limitante su quell'aspetto. Oppure, fai, io ho conosciuto, come sai, l'amicizia di qualche attore, il Diego Vazzantone in particolare, è che uno che non si limita mai, mai si è limitato alla solita legge del copione, ci mette tanto del suo, le battute, le cose, i suggerimenti, e poi naturalmente c'è il regista che lo segue di più, quello che lo segue di più, però entra proprio in quello. E la sorpresa la più grande io ce l'ho avuta nel 1998, perché lo conoscevo da sei o sette anni, ma cazzeggiante, no? partite, o andavo a vedere le prime, però no. Lavoravamo insieme nel 1998 per i mondiali di Francia, facciamo una trasmissione quotidiana in radio, che si chiamava Il calcio sui maccheroni, e andava in onda alle 13, e la facevamo da casa sua. Lui è uno che si alza tutto l'anno a mezzogiorno, l'una, a meno che non debba girare, se no si alza tutto, per un mese si è alzato alle 10 della mattina, leggeva tutti i giornali sportivi, nonostante andassimo a dormire alle 2, alle 3, alle 4, la mattina era in piedi. Allora te lo dico perché tu hai delle caratteristiche simili, di partecipazione, di costruzione, no? e quindi insomma sei giovanissimo. Beh ma mi parli di Diego, mi parli così certo, intanto mi fa solo che è piacere. No, sì, ma io parlo sì, beh perché l'intelligenza è comune, lo spirito di fare le cose è la stessa cosa, non è che cambia a seconda del ruolo, lui ha fatto sempre solo quello nella sua vita, ha fatto due regie, un film, Area Paradiso, e una cosa in teatro di Maurino e Salerno, che fu a Roma, tra l'altro ci vedemmo quella volta, che era Vengo Prenditi stasera, però dicevo, partecipa insomma alle cose come fai tu, ma quindi tu non hai più cantato, continuano a mandare il titolo di una canzone che volevano risentire, io non la conoscevo questo tuo lato. Ma perché tu in realtà non hai visto Cesaroni? No, purtroppo, confesso di no. Infatti adesso ti odieranno per questo. No, però sai, lo spiego, a me piacciono tutte le serie televisive, solo che in quegli anni io lavoravo a Sport Mediaset, io cinque serie alla settimana lavoravo, tra le coppe, il campionato, le trasmissioni, il giornale contro campo, la sera lavoravo, quindi non iniziavo una serie se poi non potevo seguirla, perché mi fa incazzare, non è che ci fosse snobismo, poi c'eri tu, c'era Martina, però non avevo proprio modo di seguirla, ecco. Però continuano a parlare di questa canzone, Matteo Cantare, mentre viene che è morto. Sì, 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 che scrivi la canzone, fa qualcosa. Senti, ma invece te come stai in realtà? Come va? Dimmi, dicci un po' come va, perché adesso ti facciamo arrabbiare, adesso ti si incazzano, no, ma come, fai parlare lui, invece adesso io faccio parlare te. Ma io so bene, io sono abituato a lavorare a casa e ti dico che la fortuna proprio incidentale è che io in questi mesi sto facendo assolutamente la cosa più importante della mia vita, che è un libro dedicato a un cardiochirurgo italiano-argentino, uno dei più grandi della storia, è stato l'uomo che ha inventato il bypass e siccome sono due anni che lavoro alla ricerca, allo studio, sono andato due volte in Argentina, ho cominciato a scrivere ottobre, novembre a fatica perché bisogna studiare, leggere tanto e in questi tre mesi mi hanno dato il modo di leggere, di scrivere tanta parte e scherzo con tutti quando dico guarda scusate io ho l'aereo che va a Buenos Aires, domattina vado a Cleveland perché lui si spostava, quindi sono positivo e queste chiacchierate qua tanto ci consentono di vederci e poi secondo me fanno compagnia a me che sono da solo e a molte persone, quindi mi è rimasto lo shock di quelle bar e della gente che muore lontana dai parenti, questa è la cosa che mi pesa in assoluto di più, è una cosa che io non riesco più non riesco più a vedere, non riesco più a sentire, ma questa Ale che tutti chiedono fai una diretta con lei ma dov'è finita? ma quando farei una diretta con Ale? sarebbe la Mastronardi Alessandra Mastronardi, sì Luciano che saluto scrive basta Cesaroni, un rally, un grandissimo attore, anche un amico e tanto riesco a leggere sì, io faccio una fatica bestia perché con gli occhiali vedo l'ant'altro mi perdo pure il discorso, non so fare due cose insieme, quindi vedi, parlo con te, sì, è un fatto, comunque l'Alessandra Mastronardi è ricorrente, quindi era protagonista suppongo dei Cesaroni e era stata solo protagonista sul set eh sì, certo perché era la la serie ruotava un po' intorno alla nostra storia d'amore Martina era una distrazione Martina era una distrazione, sì, era una distrazione odiata dal pubblico tra l'altro credo povera, mi ricordo perché poi si divideva per il ruolo sì, per il ruolo è un'altra che nella vita ha provato a fare di tutto e si è buttata con passione e l'ho scritto nel libro che abbiamo scritto assieme da Colombari non so fare un cazzo ma faccio tutto e lo faccio con grande impegno ma proprio testuale ha voluto che fosse scritto eh senti, vogliamo parlare del nostro Milan? ah vai 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 allora, dunque oramai tu mi hai mandato quella foto quella video link del video intervista credo dell'89 l'89 a Marco Van Basten a Van Basten e lì ti ho fatto ti ho chiamato poi dopo ho detto senti ma tu queste cose non le devi fare lo so non le devi non devi aprire quel capitolo 31 anni fa esatto ma era diverso il modo hai visto com'era la conversazione com'era il modo c'era solo Rai e Mediaset però non avevano tutta questa pressione poi il Milan andava bene era difficile che si negassero in effetti però e oggi ho pubblicato invece sempre una foto di quell'anno di un anno prima o dopo un Franco Baresi perché oggi compie 60 anni il tuo capitano caro mio secondo te è stato il più forte difensore di tutti i tempi è stato nominato più forte secondo me no è una domanda che faccio a te me l'hanno chiesto oggi non sapevo rispondere dico tra quelli che ho visto io nella mia vita sì primo davanti anche a Sirea e a Beckenbauer che sono gli altri due che mi sono venuti in mente sì io cioè nel senso l'ho vissuto di meno rispetto a te no perché comunque nell'88 89 90 cioè l'88 ho 7 anni 8 anni però ho vissuto insomma bene l'ultimo suo periodo però vedendo i filmati è sempre difficile stabilire perché il calcio cambia con l'epoca no è sempre fare è difficile stabilire chi era il più forte di tutti i tempi pensando che il calcio è cambiato no ovviamente sì infatti ho detto tra quelli che ho visto io giocare esatto picchi era fortissimo indubbiamente sì cioè nel senso rispetto ai nomi che mi ha fatto sì anche io lo metto come il più forte in assoluto perché Beckenbauer era fortissimo era aiutante prestanti beh beh Beckenbauer per esempio non me lo ricordo cioè nel senso non lo posso giocare andava all'attacco era elegante faceva dei gol Beckenbauer era un bel giocatore molto molto bello proprio da vedere e difensore perché subito uno mi ha scritto e Maldini però io intendevo difensore centrale insomma quello che una volta lei mi dice io ho un debole enorme per Paolo nel senso che a livello cioè proprio per me è veramente credo il più forte ma perché proprio perché sono anche di parte credo però per me lui era proprio il più forte in assurdo il fatto che non abbia mai vinto un panone d'oro è una cosa né lui né l'altro è una cosa folle veramente folle allucinante veramente allucinante e in questo bilanio di chi vogliamo parlare Serafini per fortuna sai che tu stavi parlando di Paolo Maldini che sembra essere una condizionale per esempio per Donnarumma e per esempio per Ibraimovic cioè la sua sola presenza nel progetto futuro anche in presenza di Ragnic potrebbe spostare il lago della bilancia insomma noi abbiamo subito così tante amarezzi in questi anni tra Inzaghi Brocchi Gattuso Sedorf cioè sono stati spazzati via dalla loro storia di giocatori e allora anche Paolo anche Boba Leonardo e Paolo che invece ha 70 anni di storia fra lui e suo figlio che è ancora lì io vorrei che rimanesse lui lì per avere ancora un po' di figli eccoci eccoci e questo è se riesci a leggere vuoi rispondere fallo Elena Sofia Ricci la senti ancora? è pochissimo purtroppo ultimamente ogni volta che l'ho incontrata però è sempre un'emozione sì eh sì vabbè è una straordinaria un'attrice fantastica abbiamo condiviso cinque anni di set ci ha insegnato anche tanto a noi più piccoli lei Claudio Antonello Max insomma tutti i attori protagonisti della serie ci hanno dato tanto a noi giovani nuove leve di vent'anni si affacciavano a fare una serie da protagonisti insomma c'è cameratismo sul set fra gli attori più esperti quelli più giovani io credo che il set la cosa assurda che ho notato almeno anche di Cesaroni e l'altra cosa che ho fatto è che il set è lo specchio della riuscita anche di un progetto cioè mi spiego a prescindere dalla sceneggiatura da come è girato da come è montato da come è prodotto e tutto quando c'è un'armonia pazzesca sul set è come se inconsciamente la gente a casa lo respira questa armonia e quindi noi eravamo diventati una famiglia alternativa cioè non più loro che beh certo quando le serie sono così lunghe noi giravamo nove mesi all'anno praticamente quindi quanti anni hai fatto tu? io ho fatto cinque stagioni la sesta l'hanno fatta da soli io sono andato via e quindi comunque sono poi spalmati in dieci anni fondamentalmente perché poi l'ultima credo si sta nel 2014 puoi augurare buon compleanno a Tonia? ciao Tonia buon compleanno e invece l'attore con cui ti sei trovato meglio con cui ti sei affiatato con cui c'è stato un rapporto magari anche poi di amicizia perché tu ti vedono te lo dico sai perché perché ti vedono tutti molto al femminile perché ti chiedono di della Sofia Ricci della Colombari di Alessandra eccetera quindi ma c'è anche hai fatto un'amicizia maschile la fortuna è che quando lavori con degli attori intelligenti e preparati e soprattutto dei professionisti veri è ovvio che si crea un legame perché devi dare devo tirar fuori anche il meglio da te quindi un nome solo sarebbe impossibile farlo no però uno magari che senti più spesso adesso degli altri uno con il quale hai legato non senza perché le cose nascono così il problema sai qual è che poi quando qualsiasi cosa giri sia un film una serie o qualsiasi cosa poi dopo quando si interrompe è come se poi ti risenti però non rimani è difficile che rimani sempre legato a tutte le persone con cui è come se fosse un periodo no e quindi non c'è uno in particolare nel senso io ti posso dire Ludovico Fremont piuttosto che Antonello Fassari piuttosto che Max Tortora piuttosto che Antonio Mendel cioè non ce n'è uno in particolare quindi non so rispondere proprio esattamente a questa domanda dicendo dandovi un nome e come è stata quella volta in cui stavate girando a Trigoria e arrivò la troupe di Roma Channel eh che sì si giravamo una puntata che eravamo a Trigoria è vero con la squadra con la Roma e io ero là e mi ricordo che vennero verso di me di corsa con questi Roma Channel per fare queste interviste e io dissi ragazzi sono del Milan c'è stato un gelo perché stava iniziando l'intervista no? sì 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 nel senso avevano dato più scontato che tu Romano era sì era una un momento veramente cioè poi sai quando fai Cesaroni comunque sei sei romano fai Cesaroni certo sì infatti poi io ho anche un film con Carlo Vanzina un grande Carlo Vanzina grande persona un grande persona sì veramente ho avuto l'onore il privilegio di conoscerlo a prescindere dalla grandezza come regista anche umanamente che è una una dotte insomma che non non sempre cade sì veramente veramente manca veramente a tutti alla mano stupendo veramente una persona umida anche il suo fratello mi piace molto sì sì anche Enrico assolutamente due brave persone due brave persone e anche lì feci un ruolo dove ero il giovane romano sempre ragazzo dove ti favo la roba cioè insomma era un momento continuo giustamente no? quindi ci rimasero veramente male questa cosa allora Roma dei dotti di Matteo Franciamone qui che è giallo rosso mi sposti il microfono e dice oh io sono Dermila io purtroppo è stata colpa di mio padre che mi ha portato che era milanista lui che era milanista sì sì sfegatato quindi comunque ti ha portato su quella strada io ne conosco tanti di romani milanisti però io guarda come autodifesa personale contro questa cosa posso dire che era anche più facile però perché non voglio nel senso è ovvio che è strano un romano milanista però è anche vero che nell'87 88 89 cioè io avevo 8-9 anni è lì per capire era facile il gioco più bello del mondo era facile guardare le partite era veramente se tu avevi con la squadra davanti agli occhi era veramente facile se in più avevi qualcuno a casa che ti faceva vedere quelle partite era un'altra cosa rispetto al caso è proprio un'altra un'altra cosa non scherziamo io quando sento eh però sai ah sai la squadra quella era una squadra di extraterrestri cioè in un senso non ce ne sarà forse mai più nel nostro ambito nel nostro campionato una squadra del genere tu hai dovuto confessarlo anche a Totti che eri milanista che sei milanista sì come è cosa è accaduto sì perché ovviamente poi stando la tritoria io poi sono mi ricordo che sono andato nella stanza che c'aveva Totti per farmi una foto con lui per due chiacchiere proprio c'è sai di tutto certo ti è sempre Totti ovviamente è una leggenda a prescindere di che squadra l'ottavore di Roma no sono quei calciatori quell'entità che comunque puoi essere di qualsiasi squadra cioè sono d'accordo cioè parli proprio di uno anche lui personaggio positivo uno sereno con qualche piccola marachella di sfottimento però non è mai stato uno antipatico da vedere sempre intelligente arguto nelle battute si è messo in gioco nelle pubblicità ha fatto quello che gli ha chiesto e quindi con lui cosa è successo? io parlando di studio però ti devo confessare una cosa io non so della Roma lui si è fermato ok di squadra 6 però ho visto con la quota dell'occhio che lui aveva nella sua stanza a Tricoria delle magliette appese di cui quella di Maldini bella proprio ho fatto una mezza cosa guarda secondo me il professor era al Milan e te lo passo poteva andare peggio poteva andare peggio mi ha fatto capire insomma lui è stato un paio di volte molto molto vicino al Milan molto vicino una volta al Milan dalla parte di qua la davano per chiusa la cosa perfatta perché lui era stanco c'era qualche problema con la squadra o con la società era in un momento di grande nervosismo e Berlusconi era innamorato di Totti e c'è stato un attimo che era proprio vicino e poi però lui non se la sentì ma non se la sentì di lasciare la Roma più che di venire più che di venire al Milan e secondo me è stato trattato molto male era comunque poi gli anni parliamo parliamo degli anni dove era veramente in quel luogo si credo anche era al Madrid è stato vicino un po' di squadre mondiali si si assolutamente però vicino relativamente cioè andavano lì c'era un'offerta però non c'era seguito col Milan la seconda volta c'era c'era un accordo c'era un accordo forse anche si si erano proprio a un passo lui aveva solo delle remore per lasciare Roma e la Roma e basta ma tutto il resto era praticamente fatto e quindi poi alla fine e lui si perché l'ultima bandiera poi è rimasta proprio dei rossi dopo di lui adesso sono finito posso dirti una cosa la prossima bandiera c'era ancora il Milan in casa che è Donnarum sì sono d'accordo sono convinto lui è malato del Milan la gente non lo sa la gente non lo conosce beh poi c'è stata quella quella situazione un po' più di una certo più di una i soldi il contratto le papere due volte è finito nella polvere a 18 anni a 19 non era facile rialzarsi ma lui io lo so per certo è stradisposto a dimezzarsi a tagliarsi lo stipendio a spalmare il contratto lungo in cambio che ci siano dei programmi e il primo è che rimanga Paolo Maldini io sono innamorato di Donnarum ma c'è un profilo così a 20 anni che ho in casa me lo tengo tutta la vita non so tu no no cavolo ma scherziamo a 20 anni quante partite ha già giocato in Serie A 200 è arrivato ormai arriva a 200 e ha 20 anni è un portiere che può essere 40 anni cioè parliamo di dai del futuro in quel ruolo là sì per i prossimi 15 se vanno quelle cose vanno dopo anni particolari poi col portiere comunque sai stanno trasmettendo i Cesaroni su Mediaset Extra ci dice Zottino ok ma piove spiegami perché in tanti si chiedono di piove piove era una una serie Matteo ci sono troppe cose che non so di te sì piove a te piacerebbe parecchio cos'è piove era una sorta di era un po' preso da Between Two Friends che è una serie dove Zach Galifianakis mi viene sempre ma il nome l'attore quello con la barba che ha fatto Notte da Leoni faceva queste interviste folli ai suoi colleghi ai personaggi famosi chiedendogli delle cose assurde e quindi noi abbiamo pensato ah ma no ma lo vedevo lo seguivo era quel l'ottor show a due che facevi tu facendo il matto ah piove sai perché si chiama piove io voglio dire perché si chiama piove perché era un po' ispirato hai visto che tempo che fa no? sì certo certo sì e noi abbiamo chiamato piove perché ti diamo già la risposta una giornata e merda perché se vieni là a fare il talk show vuol dire che sarà e quindi l'abbiamo chiamato piove e quindi c'era ecco vedi ogni tanto riesco a leggere per esempio le prime puntate era con Vaporitis no? sì sì ma io mi ricordo che fosse un attore greco cioè era completamente una cosa surreale quindi continuavo a parlargli in maniera lenta gli chiedevo che non capisse parli molto bene italiano l'hai imparato molto bene cioè piove era era stato un esperimento che poi è andato moltissimo peccato che a livello di numeri l'abbiamo peccato per fortuna abbiamo venduto a Yahoo quando c'era Yahoo Screen quindi non è andato poi sui canali classici tipo YouTube cose per quindi ha avuto una vita meno fortunata rispetto a quanto poteva avere poteva avere mi ricordo che un paio si erano alzati che se ne stavano per andare sì ma era tutto studiato a tavolino cioè la grandezza di piove era che tutti gli attori adesso nemmeno che parliamo mi ricordo che io qualche volta ti chiamavo e ti dico ma dimmi la verità ma vuol dire è incalzato da vero noi facciamo un lavoro studiavamo un po' l'americana cioè facciamo un film aggressivo a tavolino aggressivo autoironico ci prendiamo in giro scherziamo ridiamo e comunque sono venuti tantissimi nomi famosissimi a farlo e ci siamo divertiti c'era Salvatore Esposito Nina Zilli ecco Vaporidis Antonello Fassari pure la puntata con Fassari per me è fantastica cioè che lui vuole tentare in tutti i modi di cantare in diretta il suo rap perché lui è stato il primo rapper italiano in teoria Antonello con Roma di notte e io gli faccio vabbè ma non lui parte lo stesso a cantare io tento di fermarlo blocco insomma delle cose fuori di testa completamente lo trovo ancora da qualche parte sì 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 adesso che mi raccontai non mi ricordavo il titolo Piove ma la serie la seguivo infatti mi ricordo che stisca io ma no ma dai ma in realtà quello era incazzato veramente ce n'era uno famoso forse era proprio Amendola forse era ma non mi ricordo qualcuno che a un certo punto ha detto senti oh no c'era Montanari che mi ha tirato la brocca dell'acqua addosso a così sì sì perché in un ciac lui mi ha detto ma se ti tiro l'acqua addosso come l'avete fatto bellissimo fa famola all'ultimo per così poi magari e quindi a un certo punto mi ha tirato sta brocca bellissimo ti dico che avevo acquisito ancora maggiore stima perché ero sicuro che a un certo punto ero quasi io non ti modo aggressivo di pormi nel mio mestiere non l'ho mai avuto anche se devo arrivare al sodo ci arrivo per sommi gradi e devo dire che ho tenuto l'amicizia con tanti giocatori anche di altre squadre quando ti vedevo così aggressivo sapendo come sei tu ero a disagio dentro di me vedendo infatti qualche volta capivo la reazione di questi qua dopo invece dico che è una grande scuola di recitazione perché non c'era modo di accorgersi che fosse no anzi la cosa che mi dà più fastidio di piove è che tanti hanno pensato cioè la cosa assurda di piove adesso faccio anche una critica è il fatto che ah lo sai che potresti fare il presentatore cioè era era diventato una cosa cioè lì era comunque studiata a tavolino io faccio il ruolo di piove mista a between two frames era anche nata perché è un po' una cosa divertente nel senso che quando gli attori vanno a fare promozione nelle cose che fanno capita anche che fai delle cose normali niente di che non è che fai delle robe però fai la promozione quindi ne devi parlare bene no? quindi questa era nata un po' come cosa del fatto che ho sempre pensato pensare se io andassi tipo non ne so in qualche programma televisivo e il conduttore mi dice ma hai fatto questa fiction di merda ma come è andata come ti sei finita serissimo e tutti che mi guardano io devo rispondere ero un incubo oppure hai fatto questo film che non ha visto nessuno ma come mai e tu cioè sarebbe molto divertente sì sì qualcuno nel tempo ci aveva provato ma in modo sporadico non è mai stato sempre così costante non abbiamo avuto David Letterman noi in Italia sì anzi noi abbiamo Mollica che è un collega che adoro tenero ma lui è un violino con tutti cioè chiunque per esempio per il solo fatto che è cinema che è un film a lui piace e quindi di così aggressivo ci sono forse solo i critici i critici dei giornali i critici dei libri però quelli di livello in pochi in televisione no no ma proprio di fare qualcosa che sia fuori dagli schemi no? era decisamente fuori dagli schemi eh sì era folle cioè Nina Zilli per me era io ero fissato che non era italiana che veniva da Isabella cioè da Alessandretti cioè delle cose folli totalmente fuori controllo però a me faceva molto rire cioè noi ci divertiamo un sacco sì sì si capiva e si vedeva eh sì sì dunque cioè i cesaroni è finita come serio i cesaroni finita da un bel po' ma sì sì dico non hanno mai perché continuano a chiederti se ti piacerebbe di farli cioè Martina che sta soffrendo molto senza i cesaroni sai i cesaroni comunque hanno fatto una loro storia la loro storia in senso io capisco che c'è forse un c'è stato un buco per quel tipo di intrattenimento cioè non c'è stata un'altra serie con quello stampo là che ha fatto come i cesaroni ciao Michele quindi voglio dire non non lo so non lo so neanche che senso abbia dopo un po' io capisco che i fan comunque sì certo comprendo purtroppo credo che il teatro dove giravamo a Cinecittà è stato smantellato che noi giravamo molto all'interno di Cinecittà la casa era completamente finta camera mia camera dei miei fratelli il salotto la bottiglieria anche una parte della della scuola era 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 tutto tutto finto quindi voglio dire non lo so sì no ma sai come allora ti faccio un esempio io ho amato ma veramente amato perché era avanti e come come contenuti come contenuti come dialoghi eccetera Willie Grace parlava serenamente di razzismo di ebrei di negri di omosessuali con una leggerezza straordinaria sì e anche io ho sofferto tanto quando è finita con la serie l'hanno rifatta un paio d'anni fa l'anno scorso l'hanno rimessa insieme è stata bella ha funzionato bene sono invecchiati come tutti sono passati anni ne hanno fatti dieci episodi poi è finita lì il cesarone era un po' più complicato rifarla dopo quindici anni con tutti i vari personaggi riprenderla in mano suppongo poi hai ragione sembra un po' una minestra riscaldata potresti fare i figli dei cesaroni i nipoti esatto facciamo vent'anni dopo vent'anni come Dumas e tre moschettini allora dimmi che cosa farai dimmi che cosa c'è in testa di fare a parte il nostro progetto guarda a parte il nostro progetto non so se riprenderemo anche a proposito prima qualcuno ha scritto non ho fatto in tempo rispondere se riprenderemo anche Love Snack la sitcom che facciamo con Italia 1 non lo so vediamo perché in questo momento è difficile fare discorsi futuri innanzitutto noi non sappiamo neanche i set quando riprenderanno nel senso che non non possiamo sapere niente non è che c'è una data non si sa quindi il nostro la nostra categoria è un po' colpita da questa situazione ancora di più non lo so forse tenterò di mettere in piedi qualcosa di mio quando si potrà fare allora noi abbiamo intanto voglio fare un elogio a quelli che come te che hanno fatto dei video hanno creato qualche cosa in questo periodo tanti si sono inventati delle cose l'altro giorno ho fatto un quarto d'ora con Stefano Vogonia che ora è uno dei quattro turbolenti del Colorado Caffè della prima edizione e poi proviamo a fare questa cosa la prossima settimana come se fosse una video chat ce ne sono già altre con Ale Franz e Diego Batantuono e lo scopo a parte la chiacchierata tra di noi è proprio quello di fornire uno strumento a tantissimi artisti comici attori che serate teatro ragionevolmente fino almeno all'autunno prossimo non se ne fanno e quindi puoi avere un'opportunità per sei mesi o di intanto di farti vedere di continuare a farti vedere poi magari anche di guadagnare due lire se il format funziona qualcuno ci mette la testa perché la fortuna di questo periodo così schifoso sono state queste robe qua il wifi i telefonini la creatività la televisione per carità però potrebbe diventare anche un'opportunità cosa cosa pensi di questo sì non sei tanto tu l'ho capito non sei troppo di no non credo cioè io credo che poi a un certo momento bisognerà tornare a lavorare cioè il set è fatto di tante persone ovvio certo in questi momenti riesci a fare dei video e montarli e far finta che stiamo nella stessa stanza certo bravissimo Bizi ho visto che lo fa con oh madonna Gigi Alberti Gigi Alberti sì sì ma sono tutte cose come dici te esperimenti apprezzabilissimi belli per mantenere viva questa situazione però in questo momento ti mancheranno i progetti fatti certo no no ma io parlo parlo di una fase transitoria l'altro giorno parlavamo con Vanessa che è stata contenta anche della chiacchierata dice sì se fate questo format una volta lo posso anche rifare però poi il teatro è contatto è l'applauso è la gente è il brusiglio è la risata ma io sono d'accordo è come parlare del calcio a porte chiuse però mio nonno diceva milanese piuttosto di niente è meglio in questa fase transitoria lo dico mi regali un video prima della fine del lockdown sì credo che un altro te lo guarda adesso sto anche partecipando a questa serie fatta interamente via preente via skype me l'avevi accennato sì quella sul lockdown l'amore ai tempi del virus quando si vedrà è questa sto capendo con la produzione registrica come vogliono gestirla perché stiamo girando adesso questi video in questi giorni è divertente è ovvio che dobbiamo fare tutto noi perché ti colleghi su skype ti registri fai partire insomma però magari ecco lì c'è un'idea di fondo che è quella di girare un tot di puntate come se fosse una prima stagione con il tutta in lockdown e poi post lockdown lo giri come serie vera quindi ho visto che Gabriele Salvatore sta facendo sta montando già un film con i video di direttanti e professionalisti di queste settimane che sarebbe credo sarà forse una specie di documentario se ho capito bene e poi ho letto delle storie pazzesche quella vera di due che vivono sai come a Roma non è diverso da Milano io i miei vicini li ho conosciuti in questi due mesi ogni tanto ci incrociavamo di...